che nel 325 d.C. il signor Costantino il Grande, il cui impero stava accadendo a pezzi, vede questi cristiani, la tremenda forza spirituale che avevano di andare nelle arene e mentre venivano sbranati dai leoni, cantavano. Dice, ho bisogno, dice Costantino, di questa forza per compattare l'impero. Ecco quindi che lui trasforma l'impero romano nel Vaticano. Concilio di Nicea, 325 d.C. Quindi Cristo fonda il cristianesimo, Costantino fonda il cattolicesimo che è la reincarnazione dell'impero romano. Infatti, Cesare era il Pontifex Maximus, il Papa è il Pontifex Maximus. Impero, ricchezza, potere e per secoli il Vaticano ha sterminato, ha torturato, ha ucciso. E se voi andate a vedere la storia dei concili, hanno sistematicamente distrutto tutte le verità che Cristo aveva portato sulla terra. Per 300 anni, quindi 325, la reincarnazione era un insegnamento cristiano, perché è una legge naturale, non è un credo religioso. La legge di causa-effetto, o karma, come dicono gli orientali, che è una parola che significa azione, azione e reazione, è stata cancellata. Perché l'impero doveva dominare i sudditi. I papi sono capi di Stato, sono imperatori, non sono mai stati, tranne qualche raro caso, uomini di spiritualità. Infatti fanno politica, fanno commercio e se noi andiamo a leggere il libro dell'Apocalisse, «Il Vaticano, cioè la Chiesa Cattolica, viene chiamata Babilonia la grande prostituta e verrà distrutta, perché è corrotta e ha una storia di crimini spaventosi». Questa è la verità, che noi non sappiamo. Perché? Perché siamo pigri e ci facciamo attrarre sempre da una parca di Satana, dai vizi. E la storia non la conosciamo. E quindi Satana si inventa il lavoro, schiavista, perché tutti noi siamo schiavi della finanza. Noi siamo schiavi del denaro. Il 666 è il denaro. Nessuno può vendere o comprare se non usa denaro. Non è altro. Il 666, l'anticristo, è il denaro. Noi siamo schiavi di chi crea il denaro. Il denaro è una tossina sistemica, perché è un prodotto artificiale umano che governa tutto all'interno di un sistema naturale ciclico. Non ci ragioniamo mai, non conosciamo come funziona il denaro. Il signor Mario Draghi nel 2014 disse, rispondendo a un giornalista, esiste il video, lo trovate su YouTube, questo giornalista, credo che fosse, non so se era danese o norvegese, gli chiese ma la BCE può fallire per mancanza di fondi? Mariolino ha fatto una risatina. Sapete la risatina da drago, no? È caratteristica. È quella che nel ridere ti piglia un po' per il sedere. Dice, la BCE non può fallire a fondi illimitati. Come? Ma se esiste un ente che ha fondi illimitati, può risolvere tutti i problemi economici del pianeta. Perché non li risolvono? Perché schiavi tu. Se io, per avere uno stipendio, faccio un lavoro che non mi piace, sono schiavo del denaro. Perché se avessi tanto denaro, forse farei una vita che mi piace di più. Giusto? Quindi siamo schiavi del denaro. Facciamo le proteste per il pass verde, facciamo le proteste per tutte le follie che hanno fatto in questi due anni, ma non protestiamo mai per ciò che ci tiene schiavi. Anzi, li amiamo, li consideriamo, addirittura li tolleriamo. Abbiamo un primo ministro che è un banchiere. Quanto di peggio ti possa capitare? Un banchiere non farà mai i tuoi interessi. Farà gli interessi dei capi della sua banca. Non è un caso che Mariolino abbia lavorato per Goldman Sachs e per le più grandi banche di investimento. Dal Britannia in poi, quali interessi fa questo signore? I nostri? Il tessuto industriale dello Stato italiano, che era tra le multinazionali più potenti del mondo, che aveva fatto dell'Italia una tra le prime nazioni a livello planetario, è stato fatto a pezzi e svenduto sistematicamente da questi corrotti che noi tolleriamo lì. Questa è la verità.